Formazione, servizi e opportunità per i giovani della provincia di Alessandria. È il cuore del progetto 4i Generation nell'ambito del bando Azione Province Giovani, promosso dall'UPI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il percorso, che ha visto capofila l'amministrazione provinciale di Alessandria, ha avuto come partner l'Associazione Cultura e Sviluppo, ASM Costruire Insieme, Informa Giovani, Cooperativa Sociale Azimut, Autonomie Locali Italiane Piemonte, gli istituti superiori Learghi e Marconi, rispettivamente di Casale Monferrato e di Tortona, e i comuni di Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Fubine Monferrato, Quarniento e Solero. È stato un progetto estremamente interessante di formazione per i nostri giovani, devo dire che ha avuto un notevole successo, abbiamo visto i giovani con tanta voglia di fare ed entusiasmo, la provincia ha fatto quello che poteva per supportare ed ha avuto un grosso contributo da parte dei comuni che hanno aderito a questa iniziativa, che sono ben sette comuni del nostro territorio, quindi da parte mia un grazie a tutti quelli che hanno lavorato e un grazie soprattutto ai giovani che hanno dimostrato di avere ottime qualità e quindi spero che questa iniziativa continui in futuro. Nell'ambito del progetto è stato realizzato un percorso di formazione a distanza per operatori in forma giovani junior, ma anche attività direttamente collegate agli sportelli giovani e informati a distanza. C'è stato un iter di formazione gratuito per consulente di carriera ed uno laboratoriale di promozione delle competenze cognitive e non. E ancora, spazio ad un corso concorso di giornalismo dedicato agli studenti delle scuole superiori nell'ambito del progetto Millerighe e a un corso di europrogettazione dedicato ai sette giovani beneficiari del progetto 4e Generation, di tutto e di più per far crescere e arricchire le politiche giovanili locali.